Musica Ciao a tutte ragazze, eccomi tornata con un nuovo video come potete vedere sono tornata sono tornata finalmente con un nuovo video era da tanto che non facevo video, era quasi 3 settimane mi sono presa una pausetta di 3 settimane perché ho tante novità da raccontarvi e allora ho pensato di fare un video nella quale creavo una base viso con i soliti prodotti che uso sempre vi lascio giù nell'info box il video sulla base perfetta così non vi perdete nulla, gli spiego tutti i prodotti che utilizzo e mentre mi faccio questa base viso vi racconto un po' che cosa è successo in queste 3 settimane alla fine della base viso vi farò vedere un nuovo prodotto per gli occhi che mi è arrivato proprio oggi, quindi novità delle novità questo prodotto per occhi l'ho ordinato sul sito di Clio Makeup e ve lo farò vedere, ve lo mostrerò non dimenticate di mettere un like a questo video iscrivetevi al canale, io sono sempre contenta di vedere i vostri commenti e di leggere le vostre opinioni non dimenticate di attivare la campanellina in modo da non perdere i prossimi video e i prossimi aggiornamenti bene ragazze, cominciamo allora, mi metto il mio cerchiettino come al solito con le orecchie da gatto benissimo, come ho detto prima tutti i prodotti che utilizzo in questo video io ve li ho già mostrati nel video della base perfetta che vi metto giù nell'info box quindi non vi perdete assolutamente nulla però intanto che mi faccio la mia base per il viso almeno vi racconto un po' queste ultime novità allora, intanto voglio sapere come state se state bene, se vi sono mancato un pochino a me è mancato tantissimo fare video perché comunque ho deciso di prendermi un po' di pausa perché avevo bisogno di un attimo di tempo perché ero molto stressata la novità delle novità è che mi sono sposata mi sono sposata finalmente mi sono sposata io sono contentissima stra stra contenta era una cosa che io non avevo detto a nessuno perché ovviamente i miei parenti sì perché a me non piace raccontare le mie cose agli estranei quindi non ho mai raccontato del fatto che il mio ragazzo mi avesse chiesto di sposarmi ormai un anno e mezzo fa circa quindi l'anno scorso, è stato a gennaio a gennaio dell'anno scorso il mio ragazzo mi ha chiesto di sposarlo e quindi abbiamo iniziato tutti questi bellissimi preparativi per questo matrimonio che era il matrimonio dei miei sogni quindi io volevo a tutti i costi organizzarlo alla perfezione quindi diciamo che ero molto molto positiva ero molto felice, ero molto contenta finché a febbraio di quest'anno c'è stato quello che è successo insomma il lockdown quindi pandemia mondiale hanno chiuso tutto e hanno cominciato ad annullare tutti gli eventi tutti i matrimoni, tutte le sagre, tutte le feste e di conseguenza io che mi dovevo sposare il 13 settembre e avevo già organizzato tutto praticamente quindi è stata un po' una fortuna che io abbia organizzato tutto velocemente l'anno scorso perché quest'anno con il lockdown avrei avuto molte difficoltà ad organizzare tutto e cosa è successo? che io per fortuna avevo organizzato tutto l'unica cosa che non si sapeva era se mi sarei potuta sposare o meno perché avevo veramente molta paura di non riuscirci avevo molta paura di dover annullare tutto e doverlo rimandare io ho deciso di non rimandarlo assolutamente ho detto se si fa bene e se non si fa pazienza perché per una questione puramente di numeri puramente di numeri, numerica perché praticamente noi ci siamo messi insieme nel settembre del 2010 quindi erano esattamente dieci anni che noi stavamo insieme e mi sarebbe, era sempre stato il mio desiderio sposarmi dopo dieci anni insomma era molto bello sposarsi dieci anni dopo ci siamo messi insieme nel 2010 sposarsi nel 2020 era una cosa che mi piaceva molto infatti numerico io sono un po' così superstiziosa mi piacciono molto le date i numeri e quindi io ho detto no, io mi voglio sposare comunque anche se saremo quattro gatti con la mascherina non mi interessa voglio sposarmi lo stesso tanto comunque alla fine la base di un matrimonio alla base di un matrimonio ci siamo noi alla fine quindi marito e moglie tutto il resto non dico che sia scena però se si può evitare si evita tranquillamente ci sono tante coppie che hanno fatto dei matrimoni molto semplici molto in pochissime persone e sono felicemente sposati stanno benissimo quindi io mi sono detta non ha senso rimuginarci sopra se si farà bene se non si farà pazienza è chiaro che non sono stata così tranquilla e rilassata come sono adesso perché comunque un po' di dispiacere c'era perché comunque io avevo sempre sognato il mio matrimonio e di punto in bianco tutto quello che avevo organizzato rischiava di andare in fumo poi naturalmente vi metterò qualche foto alla fine del video per farvi vedere com'è andata che cosa abbiamo fatto bene allora cosa è successo? è successo che io ne ho parlato con quello che era il mio ragazzo adesso è il mio marito ne ho parlato con mio marito e gli ho detto cosa facciamo? io lo vorrei fare lo stesso se si può fare bene se no pazienza cosa facciamo? allora abbiamo deciso di scegliere una data alternativa per sposarci in comune quindi avevamo deciso di sposarci il 13 settembre in comune e purtroppo siccome il 13 settembre è una data importante per il paese dove vivo perché c'è una festa molto importante il 13 settembre quindi mi hanno detto no perché nessuno si sposa il 13 settembre perché c'è questa festa io non me lo ricordavo sinceramente non me lo ricordavo allora gli ho detto va bene allora facciamo magari il giorno prima facciamo il 12 e no perché c'è un'altra festa c'è un'altra festa e quindi non vi potete sposare dal 10 in poi perché c'è quest'altra festa ho detto va bene allora mi hanno detto scegli un'altra data siccome il 3 settembre che è un giovedì è il nostro anniversario allora ho pensato di scegliere il 3 settembre come data ufficiale del nostro matrimonio in comune perché ho voluto fare il matrimonio in comune? perché io mi sono detta se si farà il matrimonio con la festa grande bene prima ci sposiamo in comune e poi pazienza dopo 10 giorni festeggiamo in questo bellissimo parco dove avevamo prenotato tutto da ormai un anno e mezzo se non si può fare ci sposiamo in comune il 3 settembre che comunque è una bella data perché è la data del nostro anniversario e basta e finiamo lì la cosa saremo 4 gatti pazienza tanto l'importante è che noi stiamo bene che siamo noi e non succede niente quindi se non riusciamo a festeggiare come vorremmo quindi io diciamo che mi ero già preparata ad annullare tutto quello che era il matrimonio la festa bellissima che avevo organizzato e anche perché io fino a metà fine luglio non sapevo ancora nulla se si poteva fare o no quindi io ho detto vabbè lasciamo stare io se a metà di agosto non so ancora niente io annullo tutto e basta ci sposiamo in comune allora si poteva fare solo io mio marito che si chiama Giacomo e i due primi testimoni basta non si poteva fare con nessun altro non potevano entrare neanche i genitori e ho detto vabbè lo faremo così e poi pazienza sarà è chiaro che non è il matrimonio dei miei sogni ero molto dispiaciuta perché il matrimonio è una di quelle cose che sogni da quando sei piccola e sapere che l'avevi organizzato bene e che per forze esterne non si poteva fare e che si sarebbe fatta una cosa molto semplice molto piccola ti dispiace comunque perché non è non è quello che desideravi insomma io sicuramente non lo desideravo così scusate faccio la faccia da pesce ok quindi praticamente cosa è successo? che io pronta ad annullare tutto e invece mi arriva la chiamata e mi dicono guarda si può fare si può fare tutto si può fare tutto basta che abbiate le mascherine basta che se è uno spazio chiuso avete prenotato la chiesa ho detto no 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 noi non ci sposiamo in chiesa io avevo organizzato tutto in questo bellissimo spiazzo aperto era un parco bellissimo e un parco bellissimo c'era un lago c'erano i cavalli c'erano insomma era un posto aperto che era adibito a feste anche di mille persone io comunque per il mio matrimonio volevo poche persone quindi ne avevo invitate veramente poche perché eravamo un centinaio circa e e quindi mi hanno detto allora ok essendo spazio aperto essendo tutto aperto non hai bisogno neanche di mettere la mascherina è chiaro che quando si va in bagno quando si entra al ristorante quando sarete alla cerimonia quindi tutti i vicini allora lì la mascherina la dovete mettere però nel momento in cui siete fuori all'aperto perché siete in questo parco enorme cento persone in uno spazio di mille potete anche non tenerla comunque noi l'abbiamo messa noi abbiamo fatto fare delle mascherine personalizzate per l'evento quindi delle mascherine con scritto Simone e Giacomo per l'evento colorate e quindi è stato anche carino così fare fare una cosina di questo tipo quindi la sicurezza prima di tutto sempre e quindi abbiamo fatto una cosina così allora quindi come è andato a finire morale della favola morale della favola mi sono sposata due volte quindi praticamente mi sono sposata il 3 settembre 2020 appunto in comune eravamo io il mio ragazzo i due primi testimoni e i miei genitori e i suoi genitori basta non poteva entrare nessun altro perché i nuovi decreti avevano stabilito che in comune si poteva essere in massimo 15 persone mi sembra quindi io per ridurre ulteriormente il rischio ho detto facciamo entrare soltanto i miei genitori e basta i miei genitori i suoi genitori e i testimoni e basta non ha senso rischiare e poi invece tutti quelli che tutti gli amici quindi tutti i non congiunti mi hanno ci hanno aspettato fuori in piazza e ci hanno tirato il riso quindi tutti con le mascherine però ci hanno tirato il riso è stato molto bello è stato molto molto intimo ecco come come momento oddio ne ho messo un sacco come momento è stato molto intimo mi è piaciuto molto e quindi questo è stato il primo matrimonio il 3 settembre il giorno del nostro anniversario non ci siamo sposati quindi legalmente era anche bella come cosa e poi niente siamo andati avanti con tutti i preparativi quindi queste tre settimane sono state veramente pesanti proprio perché non dovevo organizzare solo un matrimonio ma due e quindi avevo intenzione di mettere di avevo intenzione di fare tutto alla perfezione sia per il 3 che per il 13 e niente poi abbiamo continuato ad organizzare questo questo bellissimo matrimonio per il 13 settembre un matrimonio che io ho deciso di improntare molto sul ricordo del matrimonio dei miei genitori nel senso che io ho indossato l'abito della mia mamma quindi quello che aveva la mia mamma quindi l'abbiamo fatto rimodernizzare l'abbiamo fatto mettere a posto l'abbiamo fatto sbiancare poi gli abbiamo aggiunto delle belle perline degli svaroschini insomma è stato tutto molto rimodernizzato ho messo gli stessi fiori che aveva lei tra i capelli ho messo poi è stata una cosa casuale perché io ho scelto stranamente le stesse cose che aveva scelto lei 25 anni fa e quindi ho messo gli stessi fiori tra i capelli ho scelto lo stesso bouquet la mia canzone d'entrata era la canzone che avevano i miei genitori quindi era la loro canzone e quindi l'ho improntato molto su questa cosa qua perché volevo mostrarle comunque l'amore che io provo l'immenso amore che io provo per lei che penso che si veda che sia palpabile perché non diciamo non è un amore dato dal fatto che siamo solo madre e figlia è proprio un amore vero e sincero in ogni cosa che io faccio c'è lei comunque ogni mio pensiero comunque c'è il suo benessere il suo star bene e quindi io volevo fargli vedere questa cosa e in più ci tenevo molto che mio papà mettesse il suo abito l'abito che aveva al matrimonio con mia mamma però non gli andava non gli andava quindi non siamo riusciti però io spero che comunque tutto quello che io ho fatto insomma che l'amore che io provo per loro per entrambi perché li amo entrambi allo stesso modo sia insomma si senta ecco spero tanto che si senta e niente quindi il 13 settembre io mi sono mi sono vestita mi sono cambiata ho fatto tutte le mie cose mi sono truccata da sola è stato tutto bellissimo veramente bellissimo e lui si è rimesso il suo abito da sposo e con qualche aggiunta ecco perché l'ha un po' cambiato dal 3 al 13 ha un po' cambiato e si è messo un gilettino insomma era molto era veramente bello e e quindi niente è stato veramente molto romantico molto molto bello è stato veramente molto romantico molto molto bello molto sentito è stato un matrimonio veramente emozionante ecco ci sono molti matrimoni a cui sono andata un po' freddi un po' come dire poco personali invece questo dico la verità mi è piaciuto veramente tanto io poi sono di parte ovviamente perché era proprio molto personale abbiamo deciso di inserire delle promesse che avevamo scritto noi quindi di non dire delle frasi che non che scritte da altri che non facevano parte del nostro essere io ho scritto delle belle promesse lui ha scritto delle promesse bellissime sono molto emozionata e e quindi niente è stato molto bello poi io dopo dopo aver mangiato dopo la cena ho deciso di fare il cambio abito quindi mi sono cambiata mi sono messa l'abito del 3 settembre e quindi niente io ero molto contenta ero molto felice è stato esattamente come lo desideravo io non cambierei assolutamente nulla di quello che che abbiamo fatto che abbiamo organizzato non cambierei assolutamente nulla è stato bellissimo è stato meraviglioso un matrimonio da favola e come l'avevo organizzato perché alla fine l'ho organizzato praticamente quasi tutto io alla fine di tutto abbiamo fatto mettere i fuochi d'artificio quindi abbiamo deciso di fare questa cosina in più e proprio perché siccome alcune persone non erano non volevano venire al matrimonio per il covid e quindi da un centinaio da 120 che dovevamo essere alla fine eravamo 65 e quindi siccome abbiamo visto che riuscivamo a risparmiare da un certo punto di vista abbiamo abbiamo deciso di fare anche i fuochi da un pochino di fuochi d'artificio era carina l'idea e quindi niente è stato bellissimo è stato come lo desideravo è stato veramente magico in tutto ci ho messo un po' ad organizzarlo veramente tanto però è stato veramente ancora non ci credo di essermi sposata di essere riuscita a far tutto anzi ho fatto tutto e anche di più perché pensavo di non sposarmi invece alla fine ne ho fatti due e mi sono sposata due volte quindi due abiti da sposa due cerimonie due emozioni completamente diverse perché il 3 c'era l'emozione del matrimonio quindi mi sarei sposata il 13 c'era l'emozione della festa quindi di tutto quello ho realizzato tutto quello che avevo pensato per un anno e mezzo comunque io ero tranquillissima stra tranquilla e meglio di così non poteva andare veramente bene ragazze allora ho finito come vedete la mia base viso ho messo il mio rossetto adesso vi faccio vedere il prodotto che io ho acquistato dal sito di Clio Makeup Clio Makeup Clio Makeup o Clio Makeup insomma ovvero gli Sweetie Love quindi gli ombretti in crema che si mettono sia con le dita sia con il pennello e ne ho prese sei colorazioni diverse quindi ho preso Frappe Rosè Tabù Frizzi Peach Creamy Cappuccino Mousse Doré e Graceful Glacé allora perché ho preso questi ombretti in crema voi sapete che io sono piena di palette per gli occhi quindi io utilizzo le palette della Naked voi direte perché ti sei presa gli ombretti in crema di Clio perché io la mattina quando non ho tempo non ho voglia non ho le forze di farmi un trucco occhi complesso articolato colori di transizione colore chiaro colore perlato insomma non ho molta voglia di solito mi piace mettere la matita occhi di Euphidra quindi un ombretto solo che lo sfumo con le dita e quindi mi basta questo allora siccome erano usciti questi ombretti in crema di Clio ho deciso di provarli perché volevo assolutamente qualcosa di veloce semplice però che durasse veramente tanto oggi voglio utilizzare il colore mousse d'orè quindi questo colore oro che è un oro puro praticamente il pacchettino la scatolina è fatta in questo modo con il nome mousse d'orè la sua caramellina dietro il packaging è molto semplice però elegante con la solita caramellina che contraddistingue gli Sweetie Love e l'ombretto in crema è fatto in questo modo questo è oro puro praticamente allora a me non piace personalmente mettere gli ombretti in crema con le dita perché ho le unghie lunghe quindi non mi piace che rimangano anche sotto le unghie quindi sono solita utilizzare un pennellino magari angolato un po' da sfumatura dove prendo un po' di prodotto lo sfumo molto semplicemente sulla palpebra però non vado a sporcarmi le mani e le dita quindi che cosa faccio prelevo un pochino di mousse d'orè allora questo ombretto è molto morbido come vedete si sposta si sposta con il pennello passandoci sopra il pennello non so quanto ne devo prelevare proviamo wow allora la pigmentazione sicuramente c'è dicono che bisogna sfumarlo subito nell'immediato perché una volta che si fissa non si muove più ok bello molto bello si è sfumato divinamente si è già fissato infatti non si muove non evidenzia le pieghette della mia palpebra è luminosissimo uniforme vedete che bell'effetto è veramente molto bello in questo video vi farò vedere solo questo colore nel prossimo video invece vi voglio far vedere tutti gli swatches degli altri colori e poi vi farò una recensione di questo prodotto perché avendolo già provato avendolo già testato ho modo di dirvi anche la durata la performance se mi hanno dato problemi se mi hanno dato allergia questo è solo un video presentazione nella quale li provo per la prima volta però prossimamente li vedrete tutti sicuramente ne proverò un altro però li vedrete tutti allora il colore è bellissimo è veramente luminosissimo luminosissimo bello 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 provo a metterne un po' anche in basso si è proprio morbido come ombretto bellissimo veramente bellissimo bisogna chiuderlo bene tenerlo bello chiuso per evitare che si secchi adesso metto la matita nera il mascara e torno subito bene ragazzi eccomi tornata ho messo il mascara ho messo la matita nera come vedete il colore è molto bello mi piace veramente tantissimo sicuramente nel prossimo video vi saprò dire di più quindi sarà una vera e propria recensione questo è più un test un primo test del prodotto vi dirò la sua tenuta se mi ha dato problemi se mi ha dato allergia per adesso mi piace tantissimo veramente tantissimo penso che li utilizzerò veramente tanto tutti i giorni niente io spero che questo video vi sia piaciuto spero che siate contenti che sono tornata a me fa veramente piacere tantissimo riprendere a fare i video è una cosa che mi piace molto volevo fare assolutamente volevo riprendere il prima possibile io spero che questo video vi sia piaciuto spero di avervi fatto un po' compagnia avervi fatto un po' divertire spero che siate contenti per me io lo sono sono veramente felice e si apre un nuovo capitolo per me e mio marito è ancora strano da dire dopo dieci anni però ancora strano dopo dieci anni che lo chiamo il mio ragazzo parlare di marito ma così è e doveva essere da tanto tempo e niente io vi mando un grosso bacio e ci vediamo martedì prossimo con un altro video un bacio ciao 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 Grazie a tutti.